Stiamo effettuando una disinfezione di alto livello qui dal Chakbar, utilizzando una nebbia secca attraverso una tecnologia, un atomizzatore, che determinerà la produzione attraverso questi ugelli di una nebbia secca di perossido di idrogeno, praticamente acqua ossigenata, micronizzata, la quale verrà diffusa in tutta la volumetria dell'ambiente e poi per fall'auto ricadrà anche sulle superfici. Sono tempi di esecuzione molto brevi, tempi di carenza altrettanto brevi, nel senso che dopo pochi minuti di intervento, per una trentina di minuti non si rientrerà, ma è uno scrupolo fine eccessivo, dopodiché il bar potrà tornare tranquillamente in attività. Viene certificato il lavoro in quanto verrà fatto un tampone pre e post azione dell'intervento, quindi con dei dati di un laboratorio indipendente che certificheranno l'attività che è stata svolta. Noi siamo un'azienda acquese, attività ecologiche e sanitarie e ci apparentiamo per queste attività alla società Rentax, che ha sede a Roma, ma che è diffusa su tutto il territorio italiano. Costituiamo di fatto un gruppo di aziende specializzate in diverse forniture di servizi di igiene ambientale. Grazie. 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 Grazie a tutti.